Ciao, sono Patrizia Setteeducati, channel naturale e creatrice del metodo canalizzazione vibrazionale angelica e ti aiuto ad entrare in contatto con te stesso e il tuo potere interiore perché tu possa creare una vita appagante dove tu possa sentirti pienamente realizzato sino ad arrivare a scoprire e intraprendere il tuo cammino verso la tua missione di vita. Questo grazie all'aiuto degli angeli e degli esseri di luce con cui sono in contatto sin da sempre. Bene, le persone con cui sono in contatto in questo momento mi stanno dicendo che stanno vivendo un periodo molto sfidante e difficile e magari è capitato anche a te, è capitato anche a te di sentirti scarico, senza potere e di avere una sensazione di essere privo delle risorse che normalmente sono a tua disposizione, magari ti sei sentito senza energia per portare avanti i tuoi progetti, magari stanco, svogliato, magari hai avuto difficoltà nel dormire, hai notato che tutte le tematiche sfidanti della tua vita che siano esse nuove oppure se tu hai già fatto un percorso per poter diventare più consapevole di te stesso e fatto del lavoro energetico, magari hai notato che anche alcune tematiche che ritenevi di aver risolto stanno continuando ad emergere nella tua esistenza. Inoltre ti è capitato magari di sentire un senso di vuoto, sentire di non potercela fare fino ad aver voglia quasi di buttare la spugna. Inoltre magari hai sentito un senso di isolamento e di solitudine molto profondo, fino a sentire una fatica nel portare avanti la tua vita quotidiana. Questo purtroppo accade e accade in realtà per un bellissimo motivo, perché ti trovi in una fase evolutiva, un'evoluzione molto forte che ti sta portando a renderti conto che puoi essere più flessibile nella tua vita. è importante che tu impari finalmente ad ascoltare te stesso e a seguire il tuo cuore e tu possa accogliere finalmente la tua esperienza qui sulla terra come l'esperienza più spirituale che puoi vivere e tu puoi vivere bene a prescindere dalle circostanze. Questo è un passaggio molto forte perché ti porta anche a renderti conto che la vita attorno a te, le persone che incontri non sono altro che il tuo specchio e lo specchio delle tue vibrazioni. Ebbene, proprio per questo ho pensato a te. Ho pensato a te, ebbene, se tu senti di essere nato con un grande scopo che finora non hai realizzato, se ti sembra di vivere al di sotto di quelle che sono veramente le tue possibilità e se senti un vuoto dentro di te che non sai come colmare, non sai cosa fare per realizzarti e per ritornare padrone di quelle risorse che fanno parte del tuo essere. Ebbene, questo corso serve proprio a questo, per aiutarti a risvegliare tutte quelle che sono le risorse che sono dentro di te, per riconnetterti al tuo potere personale, al tuo potere interiore e per poter superare in un modo più armonico questo periodo così sfidante, in modo che tu possa veramente creare la vita che vuoi, in modo pratico, perché il corso che andremo a fare insieme è un corso pratico che ti permetterà proprio di portare nella tua vita un cambiamento, non sarà un corso dove riceverai delle nozioni, ma dove lavorerai e avrai modo proprio di sperimentare energeticamente il cambiamento sin da subito, quindi risveglia il tuo potere interiore con l'aiuto degli angeli e questo è il corso che tu avrai l'opportunità di seguire, sarà una domenica bellissima, dove avremo l'opportunità di lavorare con un'energia molto particolare, quindi ci sarà una bellissima energia guerriera, dove tu avrai modo proprio di accedere al tuo guerriero di luce, in modo che tu possa tirare fuori quell'energia armonica, saggia e nello stesso tempo piena di energia che c'è dentro di te, in più ci saranno gli angeli che ci guideranno nel percorso in modo che tu possa fare il tuo cambiamento nel tuo modo verso la tua strada in modo da sentirti veramente realizzato ed appagato e poter accedere a quelle meravigliose risorse che sono dentro di te. Quindi quando terminerà questo video tu troverai in sovraimpressione la mail a cui potrai scrivere per prenotare il tuo posto e poter così accedere a questa bellissima occasione affinché tu possa veramente trasformare la tua vita perché ora non lo sai ma questo passaggio potrebbe davvero cambiarti la vita. A presto, ciao!